Il Presidente del Parlamento Nacionale appella al Deputato Sira che il sistema elettronico Presidente del Parlamento Nacionale Aniseto Guterres López li ho si plenari a semana avisa al Deputato Sira che il sistema elettronico che il sistema elettronico preparato al Tribunal Recurso Aniseto Guterres informa che il sistema elettronico che il sistema elettronico in fronte del Parlamento Nacionale che il sistema elettronico che il sistema elettronico Il deputato Santu. Grazie a tutti. Grazie a tutti.